Immaginate di camminare tranquillamente quando, all'improvviso, la terra sotto i vostri piedi scompare. Cosa faresti se il suolo sparisse sotto i tuoi piedi? In una giornata apparentemente ordinaria nel cuore di Napoli, lungo l'incantevole via Morgan, noto per le sue vedute panoramiche che abbracciano la città, i cittadini si sono trovati catapultati in una scena degna di un thriller hollywoodiano. Il sole splendeva alto nel cielo e la strada brulicava di vita, con persone che svolgevano le loro quotidiane attività, ignare di ciò che stava per accadere. Senza alcun preavviso, il terreno ha iniziato a tremare leggermente, un sussurro della terra che pochi hanno notato. Poi, in un istante, quello che sembrava un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un caos indescrivibile. Un fragoroso boato ha squarciato l'aria mentre un tratto di via Morgan si è sgretolato, inghiottendo tutto ciò che si trovava al di sopra. Una voragine vasta e profonda si è spalancata nel mezzo della strada, come se la stessa terra avesse aperto una porta verso l'abisso. Un'automobile, parcheggiata lungo il marciapiede e fortunatamente vuota, è scivolata nel vuoto insieme a detriti e frammenti della strada, mentre passanti increduli assistevano alla scena, paralizzati dallo shock. In quel momento di pura disperazione, l'intervento eroico di una pattuglia dell'esercito italiano nelle vicinanze è stato cruciale. I militari, con prontezza e coraggio, si sono precipitati verso il bordo della voragine, estendendo le loro mani in segno di salvezza. Con abilità e determinazione, hanno tratto in salvo coloro che si trovavano pericolosamente vicino al precipizio, evitando che la tragedia assumesse proporzioni ancora più devastanti. Le loro azioni, rapide e decise, hanno rinnovato nei cuori dei cittadini la speranza, dimostrando ancora una volta l'importanza della solidarietà e del coraggio umano di fronte alle avversità. Questo episodio, tanto inaspettato quanto spaventoso, ha lasciato la comunità con molte domande e preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture urbane, ma anche con una rinnovata gratitudine verso coloro che, ogni giorno, si adoperano per la sicurezza di tutti. Nel cuore di Napoli, la zona collinare che si estende ai piedi del Vomero, rinomata per i suoi panorami mozzafiato che spaziano sul golfo, e per le sue strade serpeggianti bordate di storiche ville e lussureggianti giardini, si è trasformata inaspettatamente in scenario di un dramma urbano, che ha esposto le fragilità nascoste dietro la facciata della città. Ti è mai capitato qualcosa di simile? Raccontaci la tua esperienza nei commenti. La pittoresca bellezza di quest'area, solitamente celebrata per il suo fascino e la sua vivacità, è stata offuscata da un evento che ha rivelato profonde lacune nella gestione e manutenzione delle infrastrutture essenziali. Il cedimento di Via Morgan, causato da una voragine improvvisa, non è stato un episodio isolato, ma l'ultimo di una serie di incidenti simili che hanno scosso la comunità negli ultimi tempi. Questa serie di eventi ha messo in evidenza la vetustà e il degrado della rete fognaria, una componente critica dell'infrastruttura urbana che, per anni, ha ricevuto meno attenzioni di quante ne meritasse. La mancata manutenzione e l'inadeguata gestione di queste infrastrutture, sommate alle sfide poste dall'orografia particolare della zona e dal suo denso tessuto urbano, hanno creato un mix pericoloso, risultando in queste drammatiche manifestazioni di cedimento del suolo. Ogni nuovo incidente solleva interrogativi sempre più pressanti sulla sicurezza e l'affidabilità delle infrastrutture cittadine, richiamando l'attenzione delle autorità locali, degli esperti di urbanistica e della cittadinanza sul bisogno urgente di interventi di rinnovamento e rafforzamento. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e storie incredibili come questa, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche. La frequenza di questi episodi ha acceso un dibattito vivace e necessario sulla priorità delle politiche urbane e sugli investimenti infrastrutturali, spingendo la comunità a chiedere trasparenza, azioni concrete e piani di prevenzione per garantire che la bellezza e la sicurezza della città possano coesistere senza che una sia minacciata dall'altro. In questo contesto di rinnovato interesse per il benessere collettivo e la resilienza urbana, la voragine di Via Morgan diventa un simbolo potente delle sfide che Napoli, come molte altre città con un ricco patrimonio storico e culturale, deve affrontare nel adeguare le sue infrastrutture alle esigenze del presente e del futuro, assicurando che la sicurezza dei suoi cittadini sia sempre al primo posto. In un appartamento vicino, due giovani ospiti di un bed and breakfast sono stati sorpresi nel sonno da un'ondata di fango, conseguenza del crollo di un muro di contenimento. Fortunatamente, non ci sono state vittime gravi, ma l'evento ha lasciato la comunità in apprensione e senza servizi essenziali come l'acqua.